Nell'inverno del 1874, Elen si ammalò di una febbre cerebrale che nessun medico riuscì a spiegare né a curare. Morì all'inizio di marzo, un giorno che pioveva. Ad accompagnarla in silenzio, su per il viale del cimitero, venne tutta la Ville Dieu, perché era una donna lieta, che non aveva seminato dolore. Due mesi e undici giorni dopo la morte di Elen, accadde a Hervé Johncourt di recarsi al cimitero e di trovare, accanto alle rose che ogni settimana deponeva sulla tomba della moglie, una coroncina di minuscoli fiori blu. Si chinò a osservarli e a lungo rimasi in quella posizione che da lontano non avrebbe mancato di risultare, agli occhi di eventuali testimoni, affatto singolare, se non addirittura ridicola. Tornato a casa non uscì a lavorare nel parco come era a sua consuetudine, ma rimase nel suo studio a pensare. Non fece altro per giorni. Pensare. In Rue Muscat, al dodici, trovò l'atelier di un sarto. Gli dissero che Madame Blanche non viveva più lì da anni. Riuscì a sapere che si era trasferita a Parigi, dove era diventata la mantenuta di un uomo molto importante, forse un politico. Hervé Jean Cour andò a Parigi. Ci mise sei giorni a scoprire dove viveva. Le inviò un biglietto chiedendole di essere ricevuto. Lei gli rispose che lo aspettava, alle quattro del giorno dopo. Puntuale, lui salì al secondo piano di un elegante palazzo in Boulevard des Capucines. Aprì la porta a una cameriera, lo introdusse nel salotto e lo pregò di accomodarsi. Madame Blanche arrivò vestita di un abito molto elegante e molto francese. Aveva i capelli che le scendevano sulle spalle come voleva la moda parigina. Non aveva anelli di fiori blu nelle dita. Si sedette di fronte a Hervé Jean Cour senza una parola e rimase ad aspettare. Lui la guardò negli occhi. Ma come avrebbe potuto farlo un bambino? L'avete scritta voi, vero? Quella lettera, disse. E l'envi ha chiesto di scriverla e voi l'avete fatto. Madame Blanche rimase immobile senza abbassare lo sguardo, senza tradire il minimo stupore. Poi quel che disse fu «Non sono stata io a scriverla». Silenzio. Quella lettera la scrive Sélène. Silenzio. L'aveva già scritta quando venne da me. Mi chiese di copiarla in giapponese e io lo feci. È la verità. Hervé Jean Cour capì in quell'istante che avrebbe continuato a sentire quelle parole per tutta la vita. Si alzò ma rimase fermo in piedi, come se avesse d'improvviso dimenticato dove stava andando. Gli arrivò come da lontano la voce di Madame Blanche. Vole anche leggermela quella lettera. Avevo una voce bellissima e leggevo quelle parole con un'emozione che non sono riuscita a dimenticare. Era come se fossero davvero sue. Hervé Jean Cour stava attraversando la stanza a passi lentissimi. «Sappiete, monsieur, io credo che lei avrebbe desiderato più di un'altra cosa essere quella donna. Voi non lo potete capire, ma io l'ho sentita a leggere quella lettera. Io so che è così». Hervé Jean Cour era arrivato davanti alla porta. Appoggiò la mano sulla maniglia. Senza voltarsi, disse piano «Addio, madame». Non si videro più. Hervé Jean Cour visse ancora 23 anni, la maggior parte dei quali in serenità e buona salute. Non si allontano più di l'Aveldieu, né abbandono mai la sua casa. Amministrava i suoi averi e curava il suo parco. A quelli che andavano a trovarlo raccontava dei suoi viaggi. Ascoltandolo, la gente di L'Aveldieu imparava il mondo e i bambini scoprivano cos'era la meraviglia. Lui raccontava piano, guardando nell'aria cose che gli altri non vedevano. Quando la solitudine gli stringeva al cuore, saliva al cimitero a parlare con Hélène. Ogni tanto, nelle giornate di vento, scendeva fino al lago e passava paura a guardarlo, giacché, disegnato sull'acqua, gli pareva di vedere l'inspiegabile spettacolo lieve che era stata la sua vita.